Il maestro Cremonesi si sta allenando sui Coldplay, in questo momento ha la barba, ma se la toglierà poi giorno 14, giusto? Siamo qua e stiamo provicchiando perché Cinecittà in questo momento è inagibile che stanno facendo dei lavori. Non si resista, latica, dorme. Però siamo tranquilli, eh? Nonostante l'incombra del programma, guarda, siamo sereni, tranquilli, guardate la faccia della tranquillità. Il più grande spettacolo dopo il weekend, il più grande spettacolo dopo il weekend, siamo noi, siete voi. Coldplay adesso, vai. Yeah, how long must you wait for me? Il più grande spettacolo dopo il weekend, siamo noi, siamo noi, siamo noi. Oh 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 Grazie a tutti.